Siamo al laghetto di Val Canale dove domenica 28 agosto si svolgerà la gara di pesca organizzata dal Val Canale Team. Un'iniziativa nata dai bei ricordi. Esattamente, iniziativa nata dai bei ricordi perché noi che adesso siamo il Val Canale Team, quando eravamo molto più giovani, che avevamo 14-13 anni, i signori di Ardesio lo organizzavano qua a Val Canale. Il tempo loro non hanno più organizzato, ora che ci siamo noi, pensiamo noi a organizzare questa festa per i giovani e anche per i veterani pescatori che vogliono partecipare. La gara si svolge domenica 28 agosto, il ritrovo è sempre qua presso il laghetto dalle 8 alle 9 di mattina per l'iscrizione. I bambini pagano 10, gli adulti 15. Dalle 9 ci sarà il via della gara, la gara è una classica, la rotazione, c'erano i tempi dei turni, i primi si svolgono sui 10 minuti, poi si allungano un quarto d'ora e gli ultimi sono da mezz'ora. La gara si conclude alle ore 12 e un quarto all'incirca, vengono fatte le premiazioni, premiamo sempre il miglior pescatore per il numero di pesci pescati e quello che pesca la trota più grossa perché noi il sabato, il sabato 27, saremo qua a preparare naturalmente tutta la manifestazione con tendone e tutto quanto e immetteremo nel laghetto 100 kg di trote più circa 7-8 trote che si differenziano dalle altre che variano dal chilo, il chilo e due, il chilo e mezzo per far vincere il premio dell'elettrotone. Non c'è bisogno di essere pescatori provetti, non c'è nemmeno bisogno di avere dell'attrezzatura. No esattamente, noi del Valcana Team grazie alla collaborazione su Dalizza Pescatori Robici di Ardesio mettiamo a disposizione all'incirca una ventina di canna da pesca, dunque anche per i genitori che vogliono provare a portare i propri figli per la prima volta a pescare noi seguiremo sia aiutandoli a slamare il pesce che a preparare l'attrezzatura che è anche l'utilizzo dell'attrezzatura. Volevo inoltre ringraziare il nostro technical partner Caccia e Pesca Gramillo di Nembro che ci supporta nella parte tecnica della gara e volevo ringraziare anche il sindaco Ivan Caccia per i patrocini al comune di Ardesio e il parco delle Orobie.